Premiazione 200 stile libero ragazze Con segnale medaglie Vincenzo De Sio Presidente Natatorium Treviso Medaglia di bronzo per Michela Tagliapietra Nuoto Venezia 2.11.72 Medaglia d'argento Vittoria Nicora Piave Nuoto 2.9.23 Medaglia d'oro per Jennifer Parolin Rappresentativa Rosà 2.9.19 Per la settima serie Alla partenza Alla 1 Riccardo Visentina Alla 2 Massimo Chiaroni Alla 3 Michele Orru Alla 4 Kylie Camry Lentley Alla 5 Cesare Busatta Alla 6 Francesco Parolino Alla 7 Mattia Sassoncin Alla 8 Nicola Fedrigo Alla 9 Mattia Sassoncin 2.01.76 Tra i Bentenbach Su Ettore Nannetti 2.198 Mattia Tezza 2.3.72 Alla 9 Mattia Sassoncin